Un gesto simbolico carico di un significato che va oltre il dono, uova di Pasqua per i bambini ricoverati in pediatria e in chirurgia pediatrica e torte. Le torte sono anche, anzi forse soprattutto per il personale sanitario del Sant'Antonio, un modo per rinsaldare un rapporto umano e di fiducia con chi ha tra le mani gli strumenti per tutelare la nostra salute. Stiamo notando finalmente un riavvicinamento delle due parti, cioè da un lato il personale sanitario e dall'altro l'utenza. Quindi c'è una sensazione di riconoscimento del lavoro che ogni giorno peraltro gli operatori sanitari svolgono con grande senso del dovere. Per cui io mi permetto di fare osservare, non li definirei eroi in questa situazione particolare, ma il personale sanitario e gli operatori sanitari secondo me sono eroi ogni giorno, così li possiamo dire, ma svolgono il loro normale lavoro secondo scienza e coscienza con grande senso del dovere. In questo momento particolare sicuramente ancora di più e abbiamo notato che l'utenza si è molto avvicinata finalmente agli operatori sanitari, alle strutture sanitarie, all'organizzazione sanitaria in genere e quindi questo non può che farci piacere. L'iniziativa è stata messa in campo dalla collaborazione tra il gruppo Facebook Dolci e Non Solo che ha fatto le torte, l'associazione Ristoratori Trapanesi presieduta da Massimo Ditta che ha donato le uova e i ragazzi dell'oratorio dei Salesiani che già da settimane sono impegnati in un volontariato attivo nei confronti delle famiglie meno ambienti. Le uova di Pasqua e le torte in più saranno donate proprio a queste famiglie. Io faccio parte del gruppo Facebook Dolce e Non Solo e allora ho pensato di donare proprio per la Pasqua, di omaggiare i nostri operatori sanitari con un modo per dire grazie e un modo anche per augurare buona Pasqua. Quindi ho coinvolto tutto il mio gruppo e ho cercato di coinvolgere ovviamente anche per Pepizzi che grazie a lui e i Salesiani che operano già nel settore trapanese, che già aiutano famiglie bisognose, siamo arrivati insomma a poter organizzare tutto quanto. E quindi oggi saremo qui, consegneremo circa 70 torte per tutti gli operatori sanitari e poi ci saranno queste uova di Pasqua per i bambini che fortunatamente nell'ospedale attualmente non si trovano tanti bambini e quindi i restanti uova verranno donati alle famiglie più bisognose. Ringraziamo il direttore generale dell'Aspe di Trapani, l'avvocato Fabio Damiani che ci ha permesso tutto questo per poter insomma portare queste torte in ospedale. Quindi ringrazio io a nome di tutto il gruppo Dolce Non Solo e Peppe Vizzi che è stato fondamentale, è stato veramente tutte le due braccia mie per portare queste torte qui.